Ciao Cinefussi, oggi parliamo di Strani, un nuovo film di Andrew Egg uscito il 29 febbraio con interpreti Andrew Scott, il protagonista Adam, Paul Mescal nel ruolo di Harry, Claire Foy e Jamie Bennett nel ruolo dei genitori di Adam Andrew Scott. Il film è di un regista secondo me molto promettente, che ha già dato modo di far vedere le sue capacità tecniche e stilistiche e la sua poetica. Infatti vi consiglio, se non l'avete visto, di recuperare 45 anni, che è un film bellissimo e che secondo me continua questo percorso introspettivo all'interno della psiche, della psicologia del personaggio principale. Si concentra molto su quello, sul suo protagonista e su quello che è il suo sentire, le difficoltà e in questo caso i traumi dell'infanzia, del passato, in una storia secondo me molto molto bella, che è tratta originariamente da un libro, da chi ci chiamata è appunto Strani, ma Andrew Egg, sia lo dirige che lo scrive, modifica ampiamente la storia intrecciandola con episodi, degli eventi della sua stessa vita, quindi degli eventi autobiografici, che secondo me erano in un film molto potente e intenso per questo motivo. La storia narra di un sceneggiatore che ha un sorta di blocco dello scrittore, per cui riguardando foto dell'infanzia, di quando era ragazzo, decide di regarsi nella sua casa di infanzia, appunto, si sposta quindi dalla City, da Londra, per andare in provincia e lì incontra i suoi genitori, che però sono più giovani di lui in realtà. Quindi c'è questo incontro in cui lui torna nel passato, immagina di dialogare con loro, parla con loro e poi scoprirete anche perché, preferisco non entrare troppo nel dettaglio. In tutto ciò lui vive in questo palazzo enorme, gigante, altissimo, appunto a Londra, dove però ci mostrano come ogni cinque lini il protagonista è Andrew Scott, Adam e Paul Mescal, che interpreta Harry. Tra i due nasce una sorta di sintonia, di flirt, che sarà anche un'altra linea narrativa della storia. Il film ci presenta un racconto che vuole esplorare i traumi del passato del protagonista, ma anche raccontare un po' del coming out, del crescere in una società che ti fa sentire diverso. Infatti il titolo è emblematico perché in italiano è estranei, in inglese è all of us strangers, cioè tutti noi che ci sentiamo estrani, fa riferimento all'omosessualità, al sentirsi diversi e a sentirsi un po' come appunto estranei anche nella propria famiglia, ma anche nella società, nell'ambiente scolastico. E quindi questo sentire, quindi questo crescere comunque in provincia, l'omosessualità, il periodo appunto che poi sono quelli degli anni Ottanti in cui lui era adolescente, quindi stava sviluppando ancora la sua personalità, il suo modo di essere e sentirsi nel mondo in quanto individuo. E' molto bello perché lui, il stile appunto delle dinamiche e delle situazioni personali che rendono il film d'impatto, un grande impatto emotivo. La storia è fortemente drammatica perché comunque molto emotiva, molto sentimentale. A livello stilistico è bellissimo, ci sono delle scene molto originali, ma soprattutto che riescono veramente non solo a esprimere quello che è proprio agonista a livello di dialoghi, ma soprattutto a livello visivo. Per tutto il film c'è anche una bellissima colonna sonora di cui canzone principale è The Power of Love, dei Fragi Ghost to Hollywood, che secondo me racchiude molto il sentire e il tema focale della storia, che poi alla fine è anche l'amore, il desiderio di sentirsi meno soli, sentirsi amati e amare. E' una scena finale, secondo me, fortemente poetica e di impatto, veramente un grande impatto. Non riesco a smettere di pensarci e quando la vedrete, se la vedrete, penso che vi lascerà anche a voi, senza parole, ma per la sua bellezza, una bellezza e un'originalità. Chiaramente questo autore riesce a creare un film, un'opera molto personale, ma che in realtà tocca il cuore e l'animo di tutti. Vi consiglio di andarla a vedere, fatemi sapere che ne pensate, iscrivetevi alla pagina, mettetemi sul canale e ci vediamo alla prossima.